Io ringrazio i responsabili dell'Associazione dei Muratori Calabresi di aver scelto Aiello per venire a fare questo simposio in un momento in cui ci sono problemi tra alcune istituzioni e la masoneria. E discutere di questo è sicuramente un fatto significativo, importante anche di democrazia perché anche quando ci sono i problemi, i problemi devono essere affrontati e discussi per quelli che sono. Aiello è una piccola comunità, un piccolo borgo con una grande storia però e quindi all'interno del contesto può dire la sua sicuramente. Io anche come Presidente della Provincia voglio dare un contributo di capire come tiriamo fuori le potenzialità di questo territorio, della nostra Calabria, dei piccoli comuni, dei comuni delle aree interne. Questi sono eventi che mettono in risalto anche la storia delle piccole comunità. Da Aiello Calabro per l'AC News 24